Qual è l'importanza di questo progetto? Si parla di questa piattaforma energetica, si parla di ecologia, di un nuovo modo di guardare all'ecologia. È un passo importante perché segna il passaggio della regione Abruzzo proiettata verso il futuro. Dal 6 maggio è possibile quindi trasmettere quegli attestati prestazione energetica in modo online, che significa che in tempo reale viene registrato in un sistema nazionale. Questo è un modo per dire no alla burocrazia, sì al risparmio energetico, sì alla transizione ecologica. Ma la transizione ecologica, se non accompagnata anche da una transizione burocratica, non ha il suo effetto, l'effetto che tutti quanti vogliamo. Quindi questo è un modo per andare incontro anche a tanti cittadini che con questo metodo, con questo nuovo metodo, possono avere anche una maggiore garanzia e certezza rispetto all'edificio che stanno acquistando, per capire in effetti qual è la sua prestazione energetica. E se capiamo che il 40% dell'energia consumata in Europa è dovuta ai nostri edifici, capiamo bene quanto è importante il settore dell'edilizia rispetto anche ai progetti più ambiziose sulla neutralità climatica. E' una iniziativa non solo che rappresenta un obbligo di legge, ma un'iniziativa fondamentale, perché viviamo una nuova era, la stiamo ovviamente aprendo con quella che è tutta l'azione messa in campo dall'Europa, con il Recovery Plan e la Regione Abruzzo arriva puntuale a questo appuntamento. arriva oggi con l'apertura di una piattaforma che renderà efficace, trasparente quella che è la certificazione dei nostri edifici, delle nostre case, dei nostri laboratori, delle nostre fabbriche. è sicuramente un qualcosa che, ripeto, stimola un nuovo modello dell'insediamento. E noi abbiamo la necessità di compiere rapidamente questi passi. Ci dobbiamo, insomma, attestare tra le Regioni con un primato di adeguatezza e di adeguamento delle nostre infrastrutture. Questo è un tema, Presidente, che si può in un certo senso anche collegare alla questione turistica della nostra Regione. Sì, una domanda assolutamente pertinente, perché noi abbiamo intanto oggi da constatare una grande sofferenza, un grande documento che purtroppo è caduto su questa categoria, che è il settore turistico, che è il settore alberghiero, che non ha purtroppo nessun tipo di attenzione e considerazione dal sistema di tutta quella che è l'ingentivazione messa in campo. Parliamo dell'eco bonus, del sisma bonus, ma parliamo soprattutto di strutture che hanno una certa età, una certa età e parliamo di strutture consistenti, rispetto al quale anche l'azione, la buona volontà e la disponibilità del titolare spesso è inadeguata rispetto alla mole dell'intervento. E parliamo di un settore produttivo che nella Regione Abruzzo è fondamentale per il rilancio e per quella che è la vocazione turistica della nostra Regione, sia essa delle zone interne, sia essa della zona costiera. Insomma, abbiamo la necessità, la speranza, ma davvero stiamo sollecitando il Governo affinché si ricomprenda tutta l'azione di ingentivazione anche il settore turistico e soprattutto il settore alberghiero.